Quando si decide di rendere obbligatoria la vaccinazione per i bambini da 0 a 6 anni, noi iniettiamo vaccini ai bambini, ai nostri figli, ai nostri nipoti, contro la poliomielite, la tubercolosi, la difterite, la meningite. Nessuno ha detto io voglio essere libero, tranne qualche squinternato Novavax, anche per i vaccini ai bambini c'erano Novavax, in modo particolare nel mondo 5 stelle. Abbiamo avuto addirittura un ministro della salute che veniva dal mondo Novavax. Quello che abbiamo visto in Italia in questo decennio andrà scritto sui libri di storia, di cronaca e anche sulla storia del cabaret. Noi dunque abbiamo deciso l'obbligatorietà della vaccinazione per i bambini piccoli, altrimenti non possono andare a scuola, perché rischiano di far morire altri bambini immunodepressi, bambini che sono in cura per la leucemia. Poi troviamo vecchi caproni di 60 anni. Io sono libero, che sei libero? Bene ha fatto Draghi a confermare che si va in direzione netta verso anche l'obbligo della vaccinazione, come giusto che sia.